Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Francea e oggi siamo su The Sims 4! La prima cosa che dobbiamo fare su The Sims 4 è ovviamente creare i personaggi. Io ho deciso di fare una famiglia particolare, sarà una famiglia composta da sei donne e prenderemo i nomi delle principesse Disney. Grazie a tutti! 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 Bell, Elsa, Biancaneve, Jasmine e Tiana. Abbiamo creato la nostra famiglia di principesse! Seleziona uno scenari, seleziona uno scenario in cui preferisco le zone di mare, c'è poco da fare. Ok, ok, abbiamo abbiamo 30 mila di soldi, abbiamo 30 mila di soldi, dobbiamo comprare una casa di soldi, dobbiamo comprare una casa abbastanza grande, dobbiamo comprare una casa abbastanza grande. Grazie a tutti! Grazie a tutti!